Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi sarà un video sulle scopriamo insieme le creazioni in resina Sembra fatta apposta ma tutti gli stampi di oggi sono blu Che coincidenza veramente Non l'ho fatta apposta ve lo giuro Insomma, questo scopriamo insieme le creazioni in resina E in collaborazione con la fantastica Susanna Del canale Yoshiki Shiny Alla quale mando un grandissimo bacione a lei A sua figlia Sharin E soprattutto al mio dorato puffo blu che lei sa che ha Insomma, abbiamo deciso di fare questa collaborazione Mi è piaciuto tantissimo questa idea che abbiamo avuto E l'abbiamo fatta con un tema unico Che praticamente è uno dei nostri film preferiti Oddio, è il mio preferito, devo essere sincera Ed è The Nightmare Before Christmas Jack, Skeletron, Sally Insomma, tutti quelli che ci piacevano L'importante è che era su quel tema Allora, io ho fatto 6 creazioni A questo tema Solo che però mi è avanzata della resina E ho fatto questo Aspettate che prima usciamo fuori questo Che bello È un fiocco meraviglioso Tema galassia, sembra Yes Galaxy Ho fatto questo L'ho messo già nel contenitore E credo che questo sia pure Sì, è questo Con la... no, non è questo Con l'altro Con la resina avanzata E così è questo Ho fatto questo qui È stupendo E spero di farci sopra una creazione in primo Praticamente mi è avanzata troppa resina Con questo effetto qui E non sapevo cosa farci Dico, niente La metto nello stampo Quello che viene, viene Mi è venuto troppo carino Mi piace tantissimo E niente, continuiamo Adesso andiamo a vedere Quelli a tema The Nightmare Before Christmas Per prima cosa vorrei No, questo lo vediamo all'ultimo Perché è quello che mi piace di più In teoria Andiamo a vedere questo qui Ecco qua Oh mio Dio Che bello Guardate Praticamente è uno sfondo Come dire Un paesaggio Però se vedete È la faccia di Jack Ma io amo Jack In qualsiasi sua forma Ed è venuto troppo carino Mi piace un sacco Guardate l'effetto di dietro Quanto è bello È tutto ultra Super brillantinato Bene Andiamo a vedere gli altri Ecco qui Oh Guardate qui Che meraviglia Praticamente è tipo IT E sono Jack Con Zero Il suo cane E poi c'è anche lo sfondo Del film Proprio Vero e proprio È adorabile Mi piace un sacco Questo è stupendo Poi Andiamo avanti Spero che anche a Susy Piacciano le mie creazioni Queste che ho fatto Con questa te Wow Guardate questo qui Io veramente spero Che voi vediate L'effetto che vedo io Perché Non lo so Sinceramente Praticamente dietro Ho messo dei brillantini Quelli grandi Che sono tutti Ad effetto Olografico E Danno un effetto Veramente stupendo Non so se Voi lo potete notare Però Dalla fotocamera Spero di sì Questa è l'ultima No Sono altre Ce ne sono altre due Scusatemi Sono un po' esaurita Che bella Guardate questa Praticamente ho deciso Di fare tutti gli sfondi neri Perché Insomma È Halloween Perciò Mi dava più Sensazione di Macabro Sto scherzando Mi piaceva e basta Guardate che sono carini Questi sono Jack e Sally Su una montagnetta E dietro c'è la luna Io dietro ho fatto lo sfondo Tutto Brillantinato Nero Praticamente è venuto Pure nero sfumato Se vedete Sotto è più chiaro Sopra è più scuro Ma questo effetto Deve essere sincero Mi piace E niente Andiamo avanti Qui c'è l'ultimo Dai Esci fuori Oh mio Dio Che bella Sono Jack Sally E Zero Ed è stupenda Questa creazione Mi piace tanto Bella Sì Ho messo dietro Anche tanti brillantini Olografici Come potete vedere Forse in questo cammeo In questo Voglio dire In questa creazione Si vedono di più Guardate Ecco Ce lo metto così Li vedete di più Insomma Finora Mi piacciono tutti Ma adesso Questo È quello che ho fatto Con più Come dire Era quello che volevo Di più Quello che volevo fare Con Ecco Era messo stop Quello che volevo fare Con più Non lo so La parola non mi viene Insomma Quello che desideravo Fare veramente Era questo Ed è il più grande Di tutti Infatti Come vedete Anche qui Mi è venuto Nero Più scuro Sfumato È trasparente Di qui Ma guardate Che questo effetto Quasi quasi mi piace E adesso Insieme Andiamo a vederlo Per la prima volta Oh mio dio È stupendo È bellissimo No Sono troppo felice È venuto come volevo E Dovete 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 sapere Che qui dietro Non so se si vede Aspettate Non credo proprio Che si vedrà Aspettate Un attimo Spengo per No Infatti Non si vede Ho messo Qui dentro E anche Dov'è Insomma Anche in un altro Che non mi ricordo Qual è Forse questo Qui Sì Sì È questo Dentro ho messo Una specie Di brillantini Che Sono fotoluminescenti Che praticamente Assorbono la luce Poi la sera Si illuminano Io credo Che questo Con questo qui Farò una specie Di tra virgolette Tra virgolette Quadro Nel senso Che lo appenderò Al muro Al mio muro Perché è troppo bello Non posso Né venderlo Né regalarlo Non mi piace troppo Insomma Mi sarebbe piaciuto Di più Se questo effetto Sarebbe stato Qui Sopra Invece Di essere di lato Ma alla fine È troppo carino Lo stesso Mi piace da morire E niente Queste sono le creazioni Che ho fatto Per la collaborazione Insieme a Yoshiki e Shiny Mando un bacio Anche a Shiny Cioè a Sharin Insomma Queste sono le mie creazioni Spero che vi siano piaciute Tutte Le mie preferite Sono di oggi Questa Perché Già lo sapete Io l'amo E questa Che è stupenda Insieme a Jack e Zero Insomma Fatemi sapere Nei commenti Qual è la vostra preferita Come sempre Spero che questo video Vi sia piaciuto E noi ci rivediamo Al prossimo video Ciao Ciao